La fine di Temptation Island ha visto il single Luciano uscire praticamente fidanzato con Manuela, che ha lasciato Stefano e si è voluta godere questo nuovo percorso. Luciano, intervistato a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato le sue sensazioni su Manuela e sul suo nascente rapporto con quest'ultima, parlando però anche di Stefano e spiegando cosa ne pensa. Da quello che ho potuto sentire attraverso Manuela e la messa in onda del programma, non condivido affatto il suo atteggiamento e il suo linguaggio, come il suo modo di guardare le donne. Durante l'ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito al bacio tra Luciano Punzo e Manuela, che dopo avergli organizzato una sorpresa ha alla fine ceduto alla corte del single napoletano. Luciano ha ripercorso quegli attimi definendoli come magici, tanto da portarli impressi nel cuore e nella mente spiegando. La vedo arrivare bella come non mai in tutta la sua eleganza e femminilità, io quasi non riuscivo più a parlare. Mi sono avvicinato sempre di più al suo viso fino a sfiorarle leggermente le labbra, fino a quando non si è lasciata andare a me.